Dopo il via libera del Senato dovrà essere approvato entro metà agosto alla Camera il Decreto Legge Antilocali che contiene anche le norme sui tagli alla sanità. Misure che toglieranno al Sistema Sanitario Nazionale 2,3 miliardi di euro nel 2015 e altrettanti nel 2016 e nel 2017. Una decina di miliardi di euro in meno nei prossimi tre anni tagliati dalle prestazioni specialistiche, visite, esami strumentali ed esami di laboratorio, considerati non indispensabili. E sarà il Ministero della Salute con una lista a stabilire quali siano i casi di necessità. In caso contrario, i cittadini pagheranno di tasca propria. Una serie di misure ci tiene a chiarire il Ministro per la Salute Lorenzin per rendere il sistema sanitario più efficiente, che porteranno dei risparmi da reinvestire nel settore. Non si tratta dunque di tagli in sistema, di risparmi previsti dal patto della salute frutto di un accordo sancito in conferenza Stato-Regioni. Ma le Regioni sono molto preoccupate, così come l'opposizione in Parlamento. Non bisogna incidere sulle prestazioni sanitarie, nella maniera più assoluta, ma bisogna incidere invece sull'acquisizione di beni e servizi, far fare le gare oppure utilizzare CECONSIP per evitare la corruzione. In questo senso siamo d'accordo con l'assessore coordinatore regionale delle Regioni della Regione Veneto, Colletto. Sul piede di guerra anche i sindacati dei medici, per i quali è previsto un taglio del salario nel caso di prescrizioni di esami non necessari. Abbiamo calcolato, ha spiegato il ministro Lorenzin, che la medicina difensiva costa 13 miliardi di euro l'anno.